Ciao ragazzi, adesso proveremo a fare due spritz con la birra. Uno con una birra Pitzner della Forst, un altro con una birra della Forst a gradazione 0. Quindi comunque capitale al colico. Ponemo uno schivas, sciroppo di lampone e lime. Prendiamo la nostra birra. Sciogliamo lo sciroppo. Inseriamo ghiaccio e andiamo a perzare la birra. Devoluzione, un lampone. Poi andremo a fare un altro spritz che è leggermente acorico, fatto con la birra Pitzner. Mettendo sciroppo al bergamotto e sciroppo al mandarino. Anche qui. Facciamo una diluzione, veloce. Una birra. E completiamo. Test, arancio. Model nere, veramente riferente. Ciao ragazzi.